Fin dalle prime ore del mattino la preghiera corale dei piacentini si mescola ai rintocchi delle campane della chiesa di Santa Rita sullo Stadone Parnese. Ricorre la festa della Santa, amata, venerata a Piacenza. La preghiera dei fedeli dopo lo sconforto per la follia del male che ha relegato tutti in sialbe e solitudini si fa quest'anno più forte e convinta. Santa Rita, liberatemi dalle angustie onde è oppresso il mio cuore. È vero che c'è una grande devozione, c'è una grande fede, diciamo, devozione prima di tutto perché devozione e fede sono discorsi totalmente diversi, però c'è una grande devozione a questa grande Santa, Santa Rita. Il popolo piacentino ci tiene tantissimo e tanto è vero che l'anno scorso ci hanno anche un po', direi, un po' rimproverato. Perché non fate la festa di Santa Rita? Cioè la pandemia, la situazione era molto evidente e critica e per prudenza abbiamo deciso di non fare, ma questa volta abbiamo cercato di rompere un po' le paure, ma non le prudenze. Le prudenze continuano. Noi siamo contenti di fare questo servizio al popolo piacentino e il popolo piacentino anche corrisponde veramente. Si ripetono, secondo tradizione, il rito dell'offerta di un cero, della benedizione delle rose, di una carezza alla reliquia della Santa. Tutti i riti della fede semplice e in duplice fila sulla strada le auto rallentano, ricevono uno spruzzo d'acqua santa, ripartono con un segno di croce per ricominciare. Sulla città ormai si sgrana la vita di sempre.